Ciao ragazzi, oggi video molto interessante per voi, andiamo a vedere le evoluzioni, l'hypercharge, tutto quello che è inerente all'ultimo video pubblicato da Brawl Stars Prima però ti ricordo di andermi a seguire in live su Twitch tutti i giorni, link qua sotto, molto importante, social nurrank30, quindi dammi il tuo supporto Qua trovi i video precedenti di Brawl Stars ed in particolare oggi andremo ad analizzare anche la situazione pass, bling, il mio profilo è un profilo abbastanza arretrato che però ha grande possibilità di crescita Ti ricordo però di iscriverti perché siamo addirittura versi 22.500 e il tuo aiuto potrebbe essere fondamentale Questo è il mio profilo, ragazzi lo vedete, bello bello carico, 31.421 coppe, il brawler che sto pushando sta a 871, il leggero drop dato che siamo arrivati a 906 Ma poi ci siamo fatti ingolosire e non siamo riusciti a mantenere il livello che c'eravamo previsti Attualmente mi avete chiesto in tanti, Vapor, come preferisci pushare, come non preferisci pushare Io sto semplicemente salendo pian piano, questo qua è il mio clan, vi ricordo, Vaporega, se volete entrare avete la possibilità di entrare Ti ricordo di andarmi a seguire su Twitch Chi mi manda le richieste d'amicizie verrà rifiutato, le richieste d'amicizie sono esclusive per coloro che hanno l'abbonamento O qua su YouTube con semplicemente i 99 centesimi oppure con l'abbonamento su Twitch che è più importante dato che le live le faccio attualmente di là Quindi andate ad abbonarvi su Twitch Ha detto questo, andiamo ad analizzare le missioni, ne ho tante da fare, abbiamo da fare le tre vittorie connita Le tre vittorie connita possono essere fondamentali soprattutto se fatte magari in una modalità come duo Detto questo inizio da darvi le prime notizie ufficiali Come vi avevo presentato, l'aggiornamento sarà pubblicato il 2 settembre Quindi il 2 settembre avremo la reaction, probabilmente in live, non lo so ancora, di questo Brawl Talk Un Brawl Talk molto atteso perché è il Brawl Talk di fine estate Un Brawl Talk molto importante, forse il più importante per quanto riguarda la crescita, se si può dire così, del gioco Un Brawl Talk dove possono cambiare molte cose, molte visioni Io sinceramente sapete che questi Brawl Talk li guardo sempre con molta attenzione Perché poi si va a descrivere gli appuntamenti che vedremo quest'autunno Sicuramente il fatto di avere le evoluzioni, come andremo a vedere dopo Dato che vi faccio un primo spoiler Il video pubblicato, secondo me, è un chiaro riferimento alle evoluzioni di Clash Royale Io l'ho analizzato già abbastanza volte e devo dire che, ragazzi, è veramente identico Quindi su due piedi vi posso assicurare che l'aspetto principale è che ci centrerà Brawl Stars Quindi vi dico, tenete da parte le vostre idee, le evoluzioni arriveranno Saranno un nuovo metodo con il quale Brawl Stars entrerà in gioco Sicuramente un metodo vincente, come può essere un metodo perdente E spero vivamente di avere delle buone notizie da voi Quindi mi raccomando, commentate qua sotto nei commenti con quello che vi attendete riguardo il gioco Io sinceramente mi aspetto grandi cose E niente, spero vivamente che anche voi aspettate le stesse cose mie Detto questo, meno male che ci ho ucciso in modo tale che velocizzo il processo Devo vincere le partite con Nita, quindi diciamo che non è che ho troppo voglia di stare qua Dopo vedrete che è stato anche annunciato in questo video Un nuovo brawler, un nuovo brawler che entrerà a far parte del trio di Bell Quindi un trio molto interessante E vi posso assicurare che secondo me le evoluzioni su Brawl Stars Accompagnate in crocio le dita che Brawl Stars abbia fatto questo ragionamento Con un rework o della Power League o del modo di scalare le coppe Può effettivamente essere la svolta per Brawl Stars Secondo me, io ve lo dico, la penso così Ok, molto bene, ho preso un botto ragazzi di potenziamenti, ma veramente tanti Ma questo è un altro discorso che andremo ad analizzare poi più avanti Vabbè, qua comunque annichiliti l'oro, annichilito l'altro Via l'orso con un potenziamento del genere non può fare nient'altro che uccidere la torretta di 8bit Due vittorie fatte, manca l'ultima, andiamo a farla Ti ricordo che sto facendo al 30 Shelly, se vuoi seguire l'avventura link qua sotto Siete veramente tanti che mi andate a seguire tutti i giorni su Twitch Quindi vi ringrazio di tutto il supporto che mi state dando Detto questo, finito questa partita, andremo a vedere quello che vi stavo descrivendo Come secondo me un aggiornamento fondamentale per Brawl Stars Spero che anche per voi lo sia E spero che anche voi condividiate con me quello che vi starò per dire Ossia, è molto importante che Brawl Stars non sbagli questo aggiornamento Perché è un aggiornamento che io ritengo fondamentale, quello di fine estate Perché poi rischi che ti bruci tutto il periodo delle vacanze Non lo so, l'ho sempre trovato abbastanza importante come aggiornamento Detto questo, qua c'è la nube un po' messa a caso Ma non importa, nel senso che l'obiettivo è quello di vincere Quindi cerchiamo di prenderci almeno gli obiettivi che ci servono Stu ci fa danni? Assolutamente sì Viene abbastanza isolato nella parte superiore Bastano due semplici hit per fare easy la win E direi a questo punto di spostarci velocemente nella parte superiore Sperando di portare a casa sta vittoria Non so esattamente dove siano i miei avversari Ti prego, voglio suicidarmi Quindi nel gioco naturalmente Ma non ho la possibilità di farlo Vi prego, datemi qualcosa Niente da fare Niente da fare Non vogliono farmi vincere il... Ok, eccolo Ho messo l'orso Buster difende Dai, dai Buster, fatti uccidere per favore Nel gioco, è sempre Però Cerchiamo di muoverci Ok, perfetto Easy Ci portiamo a casa la vittoria che ci serve Finiamo le 3 200 E soprattutto fatemi sapere se devo shoppare il pass Verrà fatto in un prossimo video Andate nella sezione notizie C'è proprio il siete carichi Con questo occhietto qua E l'unico modo che, a parte che è votare Naturalmente schiacciamo no In via Vedremo poi il risultato Chiudiamo Ci trasferiamo su siete carichi Andiamo subito su siete carichi Che è la parte che più interessa Farvi vedere Allora, andiamo ad analizzare attentamente il tutto Allora, innanzitutto vi metto anche disponibile l'audio In modo tale che possiate sentire Di quello di cui vi stavo parlando Vediamo Bull che inizia a picchiare Si prende questa prima botta Sembra abbastanza rotto Ma poi inizia a correre Ok, inizia a correre Verso la Verso questa palestra Iniziano a flexare un po' BB, Corvo e Bull E Bull inizia a diventare Totalmente indistruttibile Quindi appena ho visto tutto questo Ho detto Porca miseria Qua sta succedendo qualcosa di abbastanza Di abbastanza grosso E non capivo bene di cosa si stava parlando Fino a quando non ho visto questa prima immagine Questa prima immagine dove c'è Bull che si trasforma E diventa arrabbiato con i fulmini Ricorda molto le evoluzioni di Clash Royale Andando poi avanti nel video Tutto ciò avviene con Shelly Che gli avviene la stessa cosa Tutta fulminante con il megacoso Colt Idem come sopra Quindi questo è un chiaro rimando All'arrivo delle evoluzioni Qua nel mentre Lo spoiler sul nuovo brawler Che viene forgiato da Bell Sul momento Ed è questo qui sotto Con l'occhietto Adesso vi faccio vedere Di cosa sto parlando Perché A parte Hyper Change Che sarebbe Il Cose Tutto Questo qua è il nuovo brawler Che si arrabbia anche lui Hyper Change Brawl Talk September The Truth E poi finisce il tutto Con un semplice Dubox Finale Insomma L'aggiornamento ragazzi Non lascia scampo Ad equivoci E sembra essere Proprio un aggiornamento Inerente alle evoluzioni Spero però vivamente Che Un aggiornamento del genere Possa essere Perlomeno Accompagnato Da un qualcosa di molto interessante Come potrebbe essere Un rework Della ladder Ciao belli Ci vediamo domani Con Monopoly Go Mi raccomando Andatemi a seguire su Twitch E su TikTok